Deambulatore stabilizzatore Trekker Moxi Si richiude per essere trasportato o riposto facilmente. Il telaio è regolabile in altezza. È configurabile con diversi accessori che si adattano alle specifiche esigenze dell'utente. Ogni accessorio si fissa facilmente tramite morsetti. Il supporto toracico consente di stabilizzare il tronco. E se montato in posizione inferiore funge da supporto pelvico. È inoltre regolabile in altezza. I supporti antibrachiali si possono installare verso l'interno o l'esterno. Si possono inoltre regolare in altezza, inchinazione, direzione e profondità di presa. Sono imbottiti e dotati di una cintura a strappo per una maggiore stabilità. Il posizionatore per anca, distribuisce equamente il peso, facilitando il passo. È regolabile per ottenere un sostegno maggiore. Le ruote sono pirouettanti, con sistema di bloccaggio unidirezionale e freno. È presente un frizionatore integrato ed un sistema che, se attivato, impedisce l'arretramento. Disponibile in tre diverse misure e colorazioni.